Oggi siamo a Esterrone e abbiamo incontrato il Sindico. Che ne pensa di questa festa? Per noi questa è una giornata molto importante. Abbiamo provato, abbiamo scommesso a realizzare questa manifestazione e ci stiamo riuscendo. È un'importante iniziativa dove possiamo promuovere sia il territorio che i nostri prodotti. La partecipazione delle squadre all'Ella Nazionale ci ha dato ragione. Sono intervenuti circa 500 persone da tutta Italia promuovendo tutti i loro prodotti. Quindi sono quelle opportunità che la città del vino ci mette a disposizione e noi ne abbiamo usufruito. Spero che questa iniziativa prosegua nel tempo e vada avanti sempre crescendo sempre di più. In alcuni paesi questa gara delle botti già si fa da tantissimi anni. Come città del vino nasce nel 2007 per festeggiare il ventesimo anno di attività della città del vino. Quindi sono otto anni, questo è l'ottavo anno come si organizza questa manifestazione. Dalle partecipazioni dei comuni, che sono circa 120 quest'anno hanno partecipato a questa iniziativa, si sta lavorando per farla crescere. E come dicevo prima, spero che nel tempo diventi qualcosa di importante, dove il palio delle botti ci aiuta anche a promuovere quello che è il nostro territorio e i nostri prodotti. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.